Dieci le giornate al termine della Regular Session Lega Pro e per il Lecce si fa sempre più pressante il bisogno di punti di non perdere terreno. Un match con fischio di inizio anticipato quello che attende la squadra giallorossa, ora è 12.30 di scena a Gubbio-Lecce. I salentini di Lerda in due gare hanno riportato nel proprio saccoccio sei punti intera, posta in palio, preziosa e fondamentale. Il Lecce ha così blindato infatti il terzo piazzamento di classifica e complice alla sconfitta da ultimo maturata del Perugia, ora solo cinque punti che separano le due squadre. Ebbene però ricordare, gli Umbri devono ancora disputare una gara. In solitari a primo della classe a 48 punti il Frosinone, il Lecce spera ancora di poter riaguantare l'Olimpo di prima divisione che garantirebbe l'automatico salto di categoria. Il 13 aprile lo scontro diretto con l'attuale capolista Frosinate, in attesa dell'importante match il Lecce deve fare bene. Questo mise decisivo per scoprire il futuro delle squadre che militano al vertice Lega Pro. Il trainer Salentino dovrà fare a meno per il prossimo impegno di Vineto, fermato ai box per un turno dal giudice sportivo. Nuovamente a disposizione invece Bogliacino e Modio, domenica in Lecce al Barbetti per vincere.